Nel contesto della visita pastorale al vicariato di Castel San Pietro Terme, il cardinale arcivescovo ha tenuto sabato pomeriggio un incontro vicariale con le famiglie presso la parrocchia di Poggio Grande. Oltre alla visita alle singole parrocchie, l'arcivescovo è tornato in zona anche per un incontro specifico con i giovani, che si è tenuto a Castel Guelfo, mentre in programma una riunione con i membri dei consigli pastorali parrocchiali presso la chiesa di Santa Clelia di Castel San Pietro. Questi incontri hanno tra l'altro anche lo scopo di promuovere la necessaria integrazione pastorale delle parrocchie. All'incontro il cardinale ha ribadito l'essenzialità dell'istituto familiare per il suo valore umano e cristiano, individuando anche alcuni nodi problematici sulla realtà della famiglia nell'ambito pastorale e culturale. Il vicariato di Castel San Pietro è composto da 13 parrocchie nei comuni di Castel San Pietro, Castel Guelfo e parte di Casal Fiumanese, per un totale di circa 24.000 abitanti. La sola parrocchia di Castel San Pietro conta circa 12.000 abitanti.